Il punto di rastaccia è Ingrid! Per poco non beccarmi me! Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Vieni, andiamo da Justin J perché ci colleghiamo con i paesi! Buongiorno! Sono dolcissime! Già avete rimane, però è vero che questo è un momento un po' particolare per i cantoni un po' prima, anche perché nella fase clui io già ho impostato i progetti, che magari posso aver iniziato un po' prima, no? Quindi la fase di grande successo arriva qua. Piano piano si recupera voglia di fare. Chiedo a tutti gli acquario di tale a livello lavorativo, a livello di incontri. Questo è un periodo molto importante perché vi rimette in gioco, ma alla maniera dell'ariete. E quindi in qualche modo siete in una condizione in cui dovete esporvi e magari potete anche confermare... Come sempre in diretta, ballando, chiacchierando e giocando, ci stiamo avviando alla parte finale di Mezzogiorno in famiglia. Bravo! Bravo! Ciao! Ciao! Ciao!